Allora, benvenuti in questo nuovo video. Io sto saltando perché sono su una palla ginnastica. Come si chiama questa palla? Fitball. La Fitball. E sono con Andrea Piscione, mio amico da... Da... Da. Siamo amici da Da. Visto che su YouTube ci sono tantissime challenge, noi abbiamo pensato di fare un'altra sfida. Andrea, che è personal trainer e... come si può definire? Sono personal trainer. Ti piace personal trainer? Allora, Andrea che è personal trainer, con un metodo tra l'altro pure abbastanza nuovo, mi ha sfidato e devo riuscire a immagrire. In che modo devo riuscire a immagrire e in quanto tempo vogliano risultato? Facciamo che cambiamo completamente i tuoi perimetri in 15 sedute. 15 sedute? Sì. E quanto tempo ci richiederà sta cosa più o meno? Un pre mesi massimo, quindi prima dell'estate. Visto che sono ingrassato tanto e ho l'esigenza di cominciare ad entrare al regime, andiamo a preparare pure una scheda di alimentazione. Però non è rigida. No. Cioè nel senso, non mangio la cucina. Dopo tempo, Felice, però non sa che devi buttare il sangue perché non è che... Se riesco, avrò vinto la scommessa con te e con loro che stanno guardando. Ok, se... Se perdo? Se perdi, loro decidono cosa devi pagare tu, come il premio. Se vinci, io ti premio e ti faccio allenare da settembre a dicembre. Andrea, vai scegliere altra. Ai vostri commenti qual è l'impegno che ti piace di più? E no, si fa una pasta risata. E per favore voi almeno non siate cattivi quando lo scrivete. Noi su Instagram vi faremo vedere tutte le fasi dell'allenamento. Quindi vi facciamo seguitelo. Esatto. E vi consiglio di andare a mettere un like pure al suo profilo Instagram che è Body Functional Building. È meglio andare su Facebook che è più chiaro. È una pagina, magari. Io penso che ci siamo detti tutti e forse ci siamo detti purtroppo che ho messo il mio culo in pericolo. Ma volevo fare questa scommessa... Ma grazie a tutti. Ma che stronzo. Ho messo questa scommessa con Andrea ma soprattutto con voi perché ci voglio riuscire. Lasciate il commento per farci sapere quale pegno... Cosa che devi in testa? Allora, guarda. Noi comunque ci andiamo. Ciao. 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 Ciao.